I politici quando entrano in comune danno delle decisioni, delle direttive politiche, delle quali però non hanno la responsabilità penale di quello che succede, nel senso che poi sono i tecnici che avallano tutte le direttive che diventano penalmente responsabili. E se uno si rifiuta? E se uno si rifiuta può avere la vita ovviamente non semplice. Ma ci dicono che ci sono dei tecnici nel comune, ma non solo in questo, in molti comuni, che dicono per piacere vincete voi, così almeno noi non saremmo così. Perché se qui vincesse il prima e dopo Barba, cioè il PDB, ci sarebbe il rischio che noi ci troviamo davanti delle carte da firmare dove in caso poi di processo penale a pagarla saremmo noi, non i cosiddetti politici. Sì, grossolanamente. Grazie.